Sì buonasera dal Quirinale non poteva non essere segnata dagli effetti della pandemia questa riunione del Consiglio Supremo di difesa la prima di quest'anno e anche la prima per il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi e questo perché naturalmente il Consiglio Supremo che riunisce le forze armate i vertici di forze armate diversi ministri oltre al premier Draghi ha espresso ufficialmente un riconoscimento all'impegno che le forze armate hanno profuso in questo anno della pandemia e anche perché la Nato e l'Unione Europea che è stato ribadito nel comunicato finale restano i pilastri della sicurezza e della difesa e della politica estera del nostro paese sono stati e hanno ricevuto e devono ricevere sempre di più il sostegno per tutte le misure volte appunto a essere efficaci nel contrasto alla pandemia e la pandemia rischia di acuire e di aggravare la situazione economica delle regioni e dei teatri operativi più fragili scrivono appunto i vertici delle forze armate il presidente della Repubblica Mattarella e i ministri che hanno presieduto il Consiglio Supremo di difesa e questo significa che il terrorismo transnazionale può trovare nuovi spazi di manovra il terrorismo rimane una minaccia preoccupante scrivono e che deve essere contrastata con azioni efficaci dal punto di vista multilaterale. Ultime considerazioni sui principali teatri operativi e di crisi nel mondo la Libia che resta in una situazione critica e resta e costituisce una priorità per l'Italia l'Italia sostiene convintamente il nuovo governo di unità nazionale il rientro dei nostri soldati dall'Afghanistan che deve avvenire in piena sicurezza e l'Iraq dove è necessario invece restare l'Italia contribuirà alla stabilizzazione di questa regione. È tutto da qui in Aria.